Siamo votati Gesù e Maria Oggi, ottava di Pasqua Viglia Nabis e festa anche della Divina Misericordia Abbiamo un motivo ancora ulteriore di gioia perché il piccolo e caro Jonathan oggi si accosta per prima volta alla Santa Comunione Jonathan è qui, ha frequentato il catechismo in questa parrocchia figlio di capi e amici evidentemente con il permesso del proprio parroco ha avuto l'automizzazione sia a frequentare il catechismo che a poter celebrare la comunione oggi in questa Chiesa quindi noi, sapendo che la Chiesa Cattolica è un punto universale perché non è circoscritta alle piccole nostre circostrizioni territoriali ci rallegriamo perché un figlio di Dio oggi si accosta per la prima volta al banchetto dell'Eucaristia la teologia di questa domenica ci dà la possibilità anche di focalizzare l'attenzione sull'Eucaristia oggi è la festa della Divina Misericordia sul collettino vi invito anche a leggere qualche indicazione particolare istituita da San Giovanni Paolo II quella che vedete davanti agli occhi animati di Gesù Misericordioso quella che più assomiglia tra l'altro al nostro Signore e vedete che dal petto di Gesù Glorioso come l'abbiamo sentito nella seconda lettura tuonita bianca e fascia d'oro al petto escono dei raggi uno bianco e lo rosso Gesù stesso ha spiegato che quello bianco simboleggia il battesimo quello rosso l'Eucaristia cioè i sacramenti per mezzo di quale la Divina Misericordia giunge a noi perché col battesimo che poi così è il sacramento della confessione ci vengono rimessi i peccati e con l'Eucaristia oggi è quella prima volta Jonathan quando facciamo la comunione che succede? succede che la vita divina la vita della grazia entra in noi e accresce sempre di più la vita di grazia che in noi c'è voi sapete Jonathan lo sa bene che la comunione possiamo farla se abbiamo ricevuto prima la confessione è come il venerdì santo la domenica di Pasqua prima viene il venerdì santo e poi viene la domenica di Pasqua prima di ricevere la grazia bisogna avere tolto attraverso l'aspersione con il sangue di Gesù ciò che impedisce alla grazia di Dio di vivere a noi di appunto il peccato ora ci focalizziamo appunto sull'aspetto dell'Eucaristia anche per aiutare Jonathan e sua famiglia a vivere bene questo giorno allora vediamo un attimo il mangiato di oggi perché credere nella Eucaristia guardate che è una cosa difficile non diamo questo puntato anche se siamo cattolici anche se andiamo a messare la domenica anche se sono prete che ci crediamo in Eucaristia voi sapete che tra poco da un paio di mesi celebriremo la festa del Corpus Domini da conoscere tutti quanti più o meno ma la festa del Corpus Domini sapete perché si celebra? per un miracolo eucaristico che è avvenuto a Ponsena perché a caso di un prete che era tanto buono ma non ci credeva perché io il Signore mi sa che allattare dico questo è il mio corpo offerto il sacrificio per voi no io sempre pane se mi faccio la comunione anche Jonathan oggi si tira il sapore di un nostro di un pezzo di pane eppure quando gli dico il corpo di Cristo non mi risponde Amen sapete che significa Amen? Amen non significa così sia ma significa così è anzi è più sicuro questo che non che 2 più 2 fa 4 l'espressione Amen è un'espressione molto forte nella stessa quindi è una certezza assurda che è più grande di quelle che noi evidentemente ne siamo testimoni perché penso che nessuno non creda che 2 più 2 faccia 4 a meno che non voglia che sia rinchiuso dentro qualche centro per due psichiatri sono proprio un manicomio non so che non sarebbe allora Sant'Ommaso poveraccio Sant'Ommaso vediamo un pochettino che rapporto c'è tra l'Uterestia e quello che abbiamo sentito Gesù appare la sera di Pasqua e gli ha posto che Sant'Ommaso non c'era intanto gli dice gli danni non tenere di rimettere i peccati questo lo dice oggi si era gli dice io mi conquesso da nostro Signore il nostro Signore la fermate leggi i pangeli Giovanni perché io la sera di Pasqua ho detto a chi voi perdonerete i peccati saranno perdonati a chi non li perdonerete non saranno perdonati quindi non è possibile confessarsi indiettamente con il nostro Signore non perché in teoria non sarebbe possibile ma perché il nostro Signore non vuole vuole che passiamo per il mio amministro Tommaso non c'era e dice che è è il Signore voi tutti quanti vuoi non c'è crede ecco e poi gli acqua il nostro Signore attenzione però quello che vede Santo Tommaso Santo Tommaso poi fa un atto di fede dice mio Signore mio Dio cosa ha visto Santo Tommaso? Ha visto l'umanità di Gesù? capite? domanda ma Santo Tommaso era presente quando Gesù è morto sul Calvario l'ha visto morire Gesù in croce? Dio sa? no perché sotto la croce di un evangelio gli apostoli erano svignati tutti quanti c'era solo San Giovanni quindi l'unico che l'ha visto morire Gesù era Santo Tommaso era San Giovanni scusate gli altri non l'hanno visto quindi Santo Tommaso si è rivisto davanti Gesù ma che cosa poteva pensare? ma sarà morto veramente? oppure proprio lui? si ci ha messo capito le mani ne è costato però provate a immaginarvi un attimo la scelta cioè noi per oggi per noi è tutto quanto facile ma dicono gli interi si vede l'umanità Santissima di Gesù però anche Gesù risorto secondo voi si vedeva la divinità di Gesù si vedeva Dio? no si vedeva quest'umanità che era morta e poi certo tutto te la vedrai un'altra volta davanti comincia a pensare ma che sarà suce ma che testano era morto veramente non era morto che è successo capite? dire Dio Signore più a Dio significa sì vedo che è la stessa tua umanità ma tu stai qui perché sei risolto veramente perché sei Dio allora passiamo alla all'Eucaristia allora quando Gesù era amico dice Sant'Omaso da qui un altro Sant'Omaso che era molto credente a differenza dell'altro dice quando tu vedevi Gesù tu vedevi l'umanità ma non vedevi la divinità o nell'Eucaristia la faccenda si fa un po' più difficile perché non vedi né l'umanità né la divinità ma nell'ostre presente sia l'umanità che è la divinità cosa dico io dopo la consagrazione punto interrogativo dico questo è un mistero della fede se non c'è la fede sei morto cioè qui stiamo facendo un rito lì su una cosa un po' vabbè la Chiesa Cattolica si fa così se vai a si segua in moschea dai musulmani fanno altre cose se vai al tempio fanno altre cose quindi questo è un rito come tutti gli altri ma non è così capite? perché qui non stiamo facendo un rito l'Eucaristia succede questo che sull'altare si rinnova realmente il sacrificio dei carrossi quando faccio la comunione io ricevo Gesù vivo e vero in persona dentro di me col suo corpo col suo sangue con la sua anima con la sua divinità e dopo la messa la presenza di Gesù continua nel tabernacolo tutte le promesse che Gesù ha fatto di offrirci per la vostra salvezza la messa essere il nostro cibo la mia carica per lo cibo il mio sangue la mia bevanda il progetto di Sant'Ovanni e di rimanere sempre con noi non semplicemente capite come una via promessa ma realmente nel tabernacolo Gesù nell'Eucaristia che le ha di più ecco è chiaro che questo richiede la fede ecco perché in questo momento la domenica di Pasqua prima di appare il risorto Gesù ha sempre fatto precedere le apparizioni da un annuncio a tutti le donne sono fatte al sepolcro come vado a ricordarvi chi trova il sepolcro trova la tomba vuota e gli angeli gli dicono la tomba è vuota perché Gesù è risorto le donne vanno dagli apostoli a dire guardate che la tomba vuota Gesù è risorto Tommaso che non c'era gli apostoli gli dicono guarda che abbiamo visto il Signore Gesù è risorto quindi prima di vedere Gesù c'è sempre una parola che viene annunziata se tu ci credi a quell'annunzio poi Gesù può anche apparire ma se tu non ci credi puri sapete Gesù chi non ci ha credito dice il Vangelo di Matteo per esempio le autorità religiose giudaiche sapete che hanno fatto hanno messo hanno corrotto le guardie hanno messo in giro la voce che qualcuno era andata a trafugarsi al corpo del Signore quindi se non ci credi non ci stanno sapete capite cioè in questo senso io dico sempre concludo chi non va mai a messa non è che è cattivo non ci credi perché se tu ci credi a quello che succede qui non va a messa io dico sempre non se ci hanno di niente per forza perché se Dio qui sull'altare si offre il sacrificio io quando vado con il sangue questo è il tuo corpo per il sacrificio per voi ma questo è il corpo quindi Dio vado poco capite il corpo di Cristo che entra dentro la mia anima è fatto per te capite i nostri antichi fratelli cristiani quando dicevano il padre nostro dacci oggi il nostro pane moridiano lo riferivano all'eucaristia perché facevano questo discorso ultima riflessione di oggi allora voi mangiate tutti i giorni o due o no? vediamo un po' tutti i giorni in quaresima no qualche giorno abbiamo fatto qualche giorno abbiamo fatto salto ma adesso il tempo di Pasqua si mangia tutti i giorni quanta volta al giorno mangiate? almeno tre scolazione durante il cena più qui siamo fortunati e l'anima quanto magna? scusate l'anima quanto magna? se uno non si fa la comunione da dieci anni immaginate se uno non mangia per dieci anni cioè se esiste non mangia per dieci anni immaginate con tutte le cose sapete che uno non mangia per se vada per la quaresima come Gesù immaginate come è tornato Gesù dalla quaresima 40 giorni a digiuno cioè se tu mi rimette un po' a posto insomma 40 giorni a digiuno uno si riduce ma l'anima e se tu non ti fai la quale da dieci anni come sta ridotta? perché l'eucaristia è per l'anima quello che è cibo è per il corpo così la confessione è il bagnetto dell'anima non mi confesso da dieci anni c'è qualcuno che non si è fatto la doccia per dieci anni che capite? solo che mettere le cose del corpo se provano fa la doccia per dieci anni poi vedi se puoi girare senza la maschera anti-cassi che teglia la colera che teglia la scarpa e ancora il soggetto provano non mangia per una settimana come ti come te senti invece le cose dell'anima siccome non c'hanno i verbeni sensibili uno prendere la sutura perché non c'hanno i verbeni sensibili ma c'hanno grossi i verbeni esistenziali però capite? e la suturiamo perché? perché c'è è venuta un pochino meno la fede che deve essere ravvivata ecco perché in questi giorni teniamo acceso il cielo pasquale simbolo della presenza di Gesù risorto e della fede che ci abbiamo in lui quindi spero che Giorno ci credi che tra poco dicevi Gesù beh quindi dicevi Gesù non per scherzo però non è un simbolo quindi anche le condizioni interiori ed esteriori con cui ci accostiamo alla Santa Comunione sono importanti ma è Gesù vincu e vero che ti riempie di grazia e di benedizioni nella tua anima tre raccomandazioni a Jonathan apri bene le ricchie dopo che hai fatto la comunione oggi faremo un ringraziamento un po' più lungo almeno cinque minuti tu stai buono io vengo vicino a te e tu che stiamo vicino stai buono devi chiedere tre cose a Gesù riguardate bene vi appunti qua eh primo chiedimi una cosa grossa che ti sta particolarmente a buone la cosa grossa c'hai tempo venti minuti per pensarci la mamma non fa la comunione secondo dato che oggi sembreresti ancora essere un bravo ragazzo non so se potrai fare una seconda conto cerca di chiedere al nostro signore che siccome devi cresce e potresti diventare un birbantello non troppo ma un pochino ma chi d'azienda dice potresti diventare meno possibile il birbantello fa che questa purezza e innocenza di ciò ci vada avanti per lungo possibile che possibilmente in età adulta non arrivi messa a mano terza cosa dato che tu devi sapere giornata che non stai sul piede da terra così tu devi compiere una missione io non la so quale forse non la sarei manco tu chiedi oggi a Gesù che crescendo ti faccia capire qual è il motivo per cui ti ha mandato al mondo cioè che devi fare qua sul piede da terra capito? perché è importante che lo capiamo bene e che facciamo quello che Gesù ci ha messo dinanzi perché se lo farai non sarà felice in terra e beato in cielo d'accordo? bene siamo notati a Gesù e a Maria 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 e a Maria